Ritorno a Kobane liberata per chi era scappato dalla guerra. Le autorità turche calcolano che in 7.000 negli ultimi 10 giorni abbiano fatto a ritroso la strada della fuga dalla battaglia infuriata per 4 mesi tra curdi e militanti dell'ISIL. In 1700 hanno attraversato la frontiera turca solo venerdì. La probabilità di trovare macerie però è alta. Eravamo venuti via solo coi vestiti addosso per salvarci e così stiamo tornando. Non sappiamo cosa faremo. Ho paura, non abbiamo più nulla. Ci appoggeremo al muro e ci siederemo a terra in una casa vuota. Non sappiamo se la nostra casa è stata distrutta o esiste ancora. Siamo stati via per due mesi e siamo stanchi. Siamo degli infelici. Lasciateci morire nella nostra terra. Ben poche delle 200.000 persone che abitavano a Kobane prima della guerra erano rimaste nelle loro case. La città è stata riconquistata alla fine di gennaio dai combattenti kurdi locali con l'aiuto dei peshmerga iracheni e dei raid della coalizione internazionale. A sud-ovest però si combatte ancora.